2, 1... Oh, sono un aereo! Oh, cazzo, ma questo?! Bastardo, si chiama karma questo! Ma solo io vado addosso, tipo, ai kamikaze verso i cari armati quando sono in aereo? Cioè, come, scusa? Ma non eri, è italiano! Tipo così! Ho visto la scena! Ho visto la scena! Ti prego, te li fatti al tuo schermo! Ti prego! Hai una mia richiesta! Non ti scongiora! Vai!